buongiorno a tutti allora oggi ai criceti lenti è una giornata uggiosa guardate una tristezza veramente è finito il campionato quindi ti deprimi perché adesso ci sono due settimane di nulla di nulla proprio finché non iniziano gli europei c'è il nulla e meno male che tra due settimane cominciano gli europei anzi 3 2 2 2 si l'undici l'undici di giugno siamo al 24 di maggio di 7 18 giorni tra 18 giorni iniziano gli europei meno male perché sennò veramente a 18 giorni è vero che io sono un creativo quindi qualcosa salta sempre fuori da per quanto riguarda i miei video poi vabbè questa settimana c'è la finale di europa league c'è la finale di champions poi comincerà il calciomercato mi viene da piangere comunque dicevo ai criceti lenti si sta caricando si sta caricando il video che ho fatto su una cosa psicologica riguardante i tifosi dopo caricherò il video che riguarderà i miei pronostici che ho fatto inizio campionato cioè a ottobre su per quanto riguarda la classifica finale della serie a in cui ho anche stavolta azzeccato una sola squadra e adesso volevo andare a vedere un attimino come è andata la questione attaccanti perché ho fatto un pronostico sugli attaccanti e quindi andiamo a vedere come è andata allora partiamo dall'atalanta avevo scelto naturalmente tre giocatori a caso che pensavo potessero essere dei dei pseudo titolari o quasi e devo dire che li ha invertiti perché allora ho messo muriel che avrebbe segnato 15 gol zapata 20 e l'amers 10 allora l'amers non hanno praticamente molto utilizzato ha fatto solo due gol zapatrone come lo chiamo io zapatrone ne ha fatti solo 15 ne ho pronosticati 20 e muriel che ne avevo pronosticati 15 ne ha fatti ben 22 comunque devo dire che alla fine della fiera il perché io cosa facevo la battuta dicevo per dire faccio il come si chiama il procuratore di giocatori consiglio questi tre giocatori al presidente gli dico che faranno 45 gol in tre me ne hanno fatti 39 penso che il presidente non non possa dire nulla è vero l'emers è stato sotto la media ma i due principali cioè muriel e zapata ne hanno fatti 37 sui 35 che ho previsto quindi penso che possa essere soddisfatto viceversa il presidente del benevento era sarà incazzatissimo perché gli ho detto che la padula avrebbe fatto 12 gol caprari 10 falche 8 purtroppo la padula ha fatto solo otto reti caprari ne ha fatte la metà cioè cinque falche ha fatto un gol quindi non va bene ncs lo stesso discorso vale per il presidente del bologna perché gli avevo detto che barrova avrebbe fatto 14 gol invece ne ha fatti solo 8 palacio che ne avrebbe fatti 9 ne ha fatti solo 5 e santander praticamente è stato rotto anche quest'anno ha fatto 0 gol sempre sia ancora segnato nel bologna quindi si è fatto male un'altra volta incazzatissimo anche il precedente giulini del cagliari perché gli avevo detto che simeone avrebbe fatto 12 gol ne ha fatti 6 onas praticamente è andato a giocare l'hanno spedito del crotone ha fatto 4 gol in compenso ho azzeccato pedro avevo detto che pedro avrebbe fatto 16 gol e ha fatto 16 gol quindi è incazzato tra virgola è incazzato con simeone non con pedro che è stato nella media discorso diverso per il presidente del crotone che ahimè ha visto la sua squadra finire in serie b però i suoi attaccanti hanno fatto più che bene perché ho detto che messi sime avrebbe fatto 13 gol ne ha fatti ben 20 riviera ahimè ha fatto solo una rete e messias gli ho detto che avrebbe fatto 6 gol ne ha fatti 9 quindi devo dire che il presidente del crotone nonostante la serie b a me non può dare colpe perché i miei consigli diciamo i miei tre gli ho detto segnalo così 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 sono andati più che bene discorso diverso per il presidente della fiorentina perché caleione qua me hanno fatto pena e ho detto 10 gol caleione 16 qua me e solo 6 vlaovic invece caleione qua me pollice verso vlaovic libidine coi fiocchi perché ha fatto ben 21 reti delle 6 che avevo previsto quindi anche qui 50 50 diciamo veniamo al genoa il genoa devo dire che ci ho preso ci ho preso sono andati anzi i ragazzi sono andati oltre le più rose previsioni perché o comunque sono stati no non sono andati oltre però ho sbagliato di poco perché avevo detto che pamdev avrebbe fatto 8 gol ne ha fatti 7 destro 12 gol ne ha fatti 11 scamaca 6 gol ne ha fatti 8 alla fine preciso sei stato preciso hai sbagliato giusto giusto un punto da una parte un punto dall'altra due punti in più dall'altra quindi tutto in pari e quindi 28 gol li avevo pronosticati e 28 gol sono usciti 26 gol e 26 li hanno fatti quindi veniamo all'inter l'inter anche qui uguale stesso discorso che facevo con il genoa avevo detto lukaku 23 ne ha fatti 24 lautaro 16 ne ha fatti 17 sanchez 8 ne ha fatti 7 quindi direi che le previsioni sono state giuste veniamo alla juventus opbac opbac diciamo che ronaldo ha confermato quello che avevo detto anzi ha fatto un gol in più avevo detto 28 ne ha fatti 29 sono stati dibale e morata non essere all'altezza perché dovevano fare 14 gol per uno ne ha fatti 12 in due purtroppo dibale e morata non hanno fatto il loro dovere veniamo alla alla lazio la lazio avevo detto che ciruzzo mio avrebbe fatto 30 gol invece ne ha fatti solo 20 cai sedo 12 gol ne ha fatti solo 8 e muri qui è stato pollice verso ne ha fatti solo 3 gli avevo pronosticati 12 quindi ncs non ci siamo veniamo al milan anche qui e milan diciamo che ibra india non è stato all'altezza della situazione perché ibra avevo detto 18 ne ha fatti 15 calcolando che ha giocato metà campionato diaz avevo detto 12 ne ha fatti 4 remic avevo detto 11 ne ha fatti 11 quindi se per ibra e remic più o meno ci siamo diaz no anche per quanto riguarda il napoli devo dire che non è andata malaccio ma poteva andare molto meglio perché avevo pronosticato 12 gol di mercaz ne ha fatti 9 ma ci può stare 16 gol in signe ne ha fatti 19 quindi va molto bene purtroppo osimè ne ho pronosticati 20 ne ha fatti solo 10 anche perché ha fatto solo 24 24 partite su 38 e quindi ci può stare 14 partite in meno sono tante disastro parma non sto neanche a dirvelo 10 inglese 10 gervinio 12 cornellius non hanno fatto globalmente 8 gol in tre due gol di inglese che poi dopo va bene andato al verona e va bene due gol di gervinio anzi 5 gol di gervinio 5 gol di gervinio e un gol di cornellius il parma in serie b anche per quello veniamo alla roma la roma zeco ha fatto solo sette reti ne ho pronosticate 16 borca mario rano l'ha fatto ne ho pronosticate 12 ne ha fatte 10 e pedro ne ho pronosticate 10 ne ha fatte 5 quindi anche la roma i suoi attaccanti pollice verso sia per loro che per me veniamo alla sandoria devo dire quagliarelle avevo detto che avrebbe fatto 13 gol hanno fatto i 13 quindi ci sta gabbiadini sotto media e lagubina proprio manco un gol ha fatto quindi sorvogliamo anche qui veniamo al sassuolo in cui ho abbondato perché speravo che caputo segnasse 21 gol ne ha fatti 11 berardi è andata molto bene perché ne ho pronosticati 14 ne ha fatti 17 bogat ne ha fatti solo 4 ne avevo pronosticati 10 quindi anche qui 50 50 veniamo allo spezia in cui anche qui pollice verso perché verde ha pronosticato 6 gol ne ha fatto 1 faria se ne avevo pronosticati 8 ne ha fatti 4 galabino ne avevo pronosticati 16 ne ha fatti 3 è vero che è venuto fuori in zola ma all'altronde io ho scelto questi qua che fa anche rima andiamo al torino anche il torino pollice verso perché belotti deve fare 18 gol ne ha fatti 13 verde doveva fare 8 gol ne ha fatto 1 e bonazzoli che praticamente ha giocato poco o nulla doveva farne 10 ne ha fatti 2 praticamente più giocava più zazza che non bonazzoli udinese che clamorosamente si è salvato perché de lo feo doveva fare 12 gol ne ha fatto 1 lasagna doveva fare 12 gol ne ha fatti 2 nell'udinese e 2 nel verona quando a gennaio è andata a verona okaka doveva farne 9 ne ha fatti 4 quindi veramente devono ringraziare depol l'anno prossimo se depol come sembra parte l'udinese deve prendere innanzitutto un attaccante che gli garantisca almeno 12 13 gol punto primo e poi deve prendere un sostituto di depol che non lo faccia rimpiangere non dico che sia nuovo depol ma che non lo faccia rimpiangere quindi devono venderlo bene da libidine prendere due giocatori buoni piuttosto prendere anche due attaccanti in prestito ma che facciano assieme un po' almeno una ventina di gol in due perché se no l'udinese l'anno prossimo lo vedo molto 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 male detto questo mi do un 6 ma d'altronde è un gioco ragazzi miei un gioco non è che si può pretendere la luna aspettate che devo vedere ecco mi sono dimenticato il Verona mi sembra giusto mi sono dimenticato il Verona a me che anche il Verona ho messo Calidici di Carmine e Favilli qua sono andati via tutti perché a parte Calidici forse che dovrebbe essere rimasto al Verona ma di Carmine è andato al Crotone poi non ha giocato per nulla Favilli non ha giocato quindi non posso non posso dire nulla sul Verona vabbè tanto cambia poco ragazzoni detto questo non so se l'anno prossimo cioè tra pochi mesi visto che il campionato inizierà ad agosto quindi non ce ne accorgeremo neanche puf riparte il campionato perché ormai il tempo vola come cantava la Cuccarini in più anche quest'anno il maggio non ce la siamo manco gustato perché sembra autunno non sembra primavera sembra autunno fa un giorno bello e gli altri seta nuvolosa e pioggia io mi auguro che dalle vostre parti soprattutto al sud si stia bene si stia già a fare il bagnetto eccetera eccetera perché qua veramente è un pianto greco ed è un pianto greco lo dico sinceramente da quando mi sono trasferito qua al lago che prima arrivavo su al 23 poi chiudiamo perché mi sto dilungando troppo al 23 24 25 di luglio arrivava arrivato il Gigi inizia l'estate da quando il Gigi si è trasferito direttamente a Domaso e quindi non dico che è estate tutto l'anno perché qua è impossibile che sia estate tutto l'anno però almeno da metà aprile in poi dovrebbe essere giornate belle sole certo ogni tanto un po' di pioggia ci vuole ma qua si esagera qua siamo a livello del pozzetto quando dice oh ho mandato i cammelli e un po' d'acqua ecco va bene così basta finalmente basta 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 acqua basta 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 un po' meno un po' meno un po' meno basta acqua ecco siamo a questo livello qui perché veramente maggio in 24 giorni che ci sono stati penso che 17 sono stati di di tempo nuvoloso o piovoso perché anche in questi giorni era sempre o pioveva o pioviginava o era nuvoloso poi c'era il giorno di sole che con le nuvolette sole che andava veniva andava veniva andava veniva un giorno di sole decente e poi ancora oggi acqua ma acqua a catinelle viene giù proprio bene va bene ragazzo io vi saluto vi ringrazio spero che i criceti si diano una mossa a me francamente guardate è un pianto dover lavorare così è un pianto perché potrei postarvi tanti bei video tutti i giorni tutti belli ravvicinati almeno ve li potete vedere in fila vi passate il vostro tempo belli tranquilli vi fate due risate col gigione e invece li vado online quando decidono i criceti e quindi non posso programmare nulla perché non lo so possono metterci un'ora come possono metterci lo stesso tre ore non dico come con la dsl perché ce ne metteva il doppio però se voglio mettere magari online tre quattro cinque video nello stesso giorno perché sono bello carico ci sono argomenti interessanti si fa quel che si può con quel che sia ciao